ciao benvenuti su gold unicorn artarot ciao carissimi e carissime allora oggi voglio fare una stesa diretta sull'amore ieri l'ho fatta due stese oggi la faccio a stesa diretta e pensa una persona ho già messo qui testimoni tu e l'altra persona o tu e l'altra persona e quindi andiamo ad incominciare con le simile poi aggiungeremo le carte che ci chiamano quindi ricordati sempre che questo è un video che vale nel momento in cui lo guardi in cui capitani capiti qui ricordati che ha sempre una vibrazione particolare tutta per te allora vediamo un po e mi vieni già da dirti che è una persona che è verso di te vuole venire verso di te in questo momento con semplicità con naturalezza come se niente fosse io non so se tu stai guardando e magari conosci questa persona aspetti una persona comunque qui abbiamo proprio una persona che vuole fare uno spontaneo movimento e c'è il segreto quindi qualcosa che o non ti aspetti non ti aspetti in questo momento è come se questa persona un po la stesse meditando questa cosa magari da da tempo quindi potrebbe anche essere che sta già organizzando qualcosa e tu non te lo aspetti e qui mi dice che comunque è una persona gelosa magari tu hai fatto qualcosa questa persona si è ingelosita gli ha fatto scattare qualcosa per cui sente proprio il desiderio di venire da te e potrebbe anche voler dire questa che ti sta osservando guardando da lontano segretamente e vuole proprio parlarti di qualcosa magari ti vuole proprio parlare di qualcosa che riguarda diciamo una gelosia qualcosa che ha dentro e quindi andiamo a metterci un po delle altre sibille andiamo un po a vedere meglio allora voglio un po vedere qui allora qui abbiamo appunto l'inizio no cioè un'energia diciamo di questa persona che in modo spontaneo naturale quindi potrebbe veramente essere stato un impulso di gelosia che in modo spontaneo naturale vuole venire da te ma in un modo che tu non te lo aspetti comunque ti vuole parlare voglio vedere la gelosia poi voglio vedere perché ti vuole parlare cosa ti vuole dire allora andiamo un po vedere qui sulla gelosia sì allora questa è una carta che rappresenta anche l'avvertimento l'insegnamento come se questa persona dentro se stessa avesse come ricevuto un insegnamento probabilmente ti ha visto oppure non ti ha proprio visto da nessuno ma dentro gli è successo qualcosa magari ha detto adesso incontra un'altra persona ed è stato proprio come un avvertimento che lui ha sentito interno come dire stai attento che attento a non tirare troppo la corda perché la perde questa persona è in effetti proprio a te sta pensando sta pensando proprio a te forse qualcuno gli ha detto qualcosa vediamo se ti ha visto direttamente o qualcuno gli ha detto qualcosa o semplicemente è qualcosa che è sorta dentro così la gelosia può sorgere anche così da un pensiero che non si aveva fatto prima magari una persona è lì e dice ma forse mi sono reso conto di qualcosa comunque ha paura proprio di perderti questa persona sì qui dice questa carta che qualcuno gli ha detto qualcosa allora potrebbe anche non essere visto che siamo nel mondo dei social qualcuno che non gli ha detto qualcosa di te direttamente ma che magari ha messo per esempio una fotografia con te qualcosa gli ha fatto scattare la gelosia e qui abbiamo proprio la persona che ha proprio l'avvertimento è proprio come dire adesso voglio andare da te vediamo se ha voglia di dirti la verità o no vediamo di che cosa ti vuole parlare questa persona cosa ti vuole dire questo è stato l'avvertimento interno che lo spinge a venire da te ma vediamo se poi te lo dice oppure come dice un po anche qui il bambino che rappresenta un po l'innocenza ma rappresenta anche il gesto naturale che una persona fa spontanea no magari magari a qualcuno di voi manda un messaggio semplicemente per sapere come stai ma dietro c'è tutto un mondo oppure non risponde perché proprio dietro è geloso e quindi vuole fare resistenza per esempio no potrebbe essere anche una persona che ti dice qualcosa che non è inerente a questa cosa che gli è scattata che però bene che gli sia scattata perché io vedo che proprio vuole venire da te comunque si rende conto che tu sei una persona piacente si rende conto che sei una persona amorevole insomma ha preso coscienza secondo me delle tue qualità delle tue doti quindi secondo me non ti vuole parlare direttamente di quello che ha saputo anche perché secondo me un pochino si vergogna vuole semplicemente contattarti conversare dirti qualcosa vederti secondo me ti vuole anche vedere per capire se veramente magari ha incontrato qualcuno ha incontrato un'altra persona se sei sempre interessata a lui e nello stesso tempo secondo me dentro se stesso ti ha anche un po' rivalutato no mettiamoci un po' queste carte ecco questa è già venuta sì ecco ha preso coscienza che in questo periodo che probabilmente molti di voi o non si sentono si sentono poco ha preso coscienza che effettivamente tra di voi le cose magari non scorrevano molti di voi magari non sentono questa persona oppure c'è un po' di lontananza ma perché lui o lei si era un po' impigrito sul suo comportamento si era abituato e voi forse gliel'avevate permesso si era abituato un po' a fare un po' così le solite cose a darvi mi viene da dire in una parola darvi un po' per scontata invece è come se questa punta di gelosia gli avesse proprio fatto scattare qualcosa dentro quindi bene che sia accaduto questo anche perché non è accaduto niente di così clamoroso di così grave semplicemente una cosa interna quindi vediamo è visto che ti vede così romantica cevettuola amorosa cioè come se improvvisamente anche solo se tu per esempio sei corteggiata attavicamente l'essere umano soprattutto il maschio ha un senso di competizione con gli altri maschi qui stiamo parlando non di psicologia qui stiamo parlando proprio del senso attavico che hanno comunque il diciamo il maschile in questo mondo di qualsiasi manifestazione ecco quindi è come ecco questa ha voluto venire adesso la giriamo quindi è come se questa persona avesse detto mi era un po' impigrito nei suoi confronti facevo un po' sempre le solite cose forse mi sono allontanato perché trovavo meno stimoli però invece questa cosa l'ha stimolato molto e è molto contenta questa persona è come se avesse fatto un respiro di sollievo no vedi c'è anche l'angelo dietro è come se tutto questo che forse è accaduto più nella sua mente che nella realtà gli avesse risvegliato veramente anche l'io bambino come dicevano qui le sibille ma è come se un angelo gli avesse dietro di lui poi sono energie gli angeli quindi potete vederli con le vostre visioni ma è come se dentro lui avesse avuto una chiarificazione un'illuminazione come se avesse preso coscienza proprio del vostro valore no si stava addormentando su se stessa questa persona ma non perché voi non ce l'avevate il valore perché lui si era un po' chiuso secondo me un po' l'amore un po' i sentimenti vediamo un po' su questo viaggio cioè il cambio che rappresenta anche il cambio di posizione no nelle nelle sibille quindi anche una persona comunque che vuole fare del movimento verso di te e adesso lui o lei sempre io parlo sempre al femminile vuole un po' andare contro la sua stessa corrente interna cioè una persona che forse ha sempre un po' dominato diciamo ha sempre un po' non dominato te assolutamente o forse anche per alcuni di voi si mi viene da dire un po' una persona dominante cioè decido io ma ricordatevi sempre che se una persona è così decisionista è perché in qualche modo voi gli avete dato questo potere perché sennò una persona già da subito potrebbe dire va bene anche a livello energetico facciamo un po' per uno no cioè decidiamo decidi un po' tu decidi un po' io forse a voi vi piace la persona decisionista e quindi vi affascina di più perché la persona decisionista ti dà anche delle forti emozioni ecco comunque questa persona si è resa conto che portava un fardello sulle spalle non peso e che quindi adesso invece vuole liberarsi da questo peso sente la spinta energetica di questo angelo a venire verso di te e adesso io voglio vedere anche sul segreto non te lo vuole dire abbiamo visto può anche dirti altre cose però fatto sta la sostanza è che questa persona vuole venire da te ecco vuole vediamo adesso che cosa ci dice è questa la cessazione della lotta quindi viene da te in pace vuole assolutamente dentro di lui magari può avere ancora quell'atteggiamento che tu conosci però dentro di lui questa persona viene con e viene proprio in pace non vuole dinamiche non vuole lottare la cessazione della lotta interna un po questo il suo segreto che non ti vuole dire forse è come se ti volesse dire io non ti voglio dominare non voglio essere io forse anche tu mi hai dato questa parte non voglio essere dominante nel rapporto non che domini te è momento sono due cose diverse dominante significa un po la persona che è un po abituata a essere coccolata cercata forse tu gli hai dato troppe abitudini forse tu avevi appunto bisogno di questo però questa persona in questo momento vuole è come se ti volesse dire non voglio lottare non voglio allontanarmi quindi per perché magari sono andato in reazione non ti vuole dire che tutto gli è scattato per della gelosia però ti vuole dire che senza di te porta effettivamente un peso che forse si era impigrito sulle sue posizioni sul suo modo di essere più che altro era accaduto diciamo non è che questa persona si era proprio impigrita nel sentimento verso di te diciamo che è accaduto sono accadute una serie di cose per cui questa persona si era abituata ecco questa parola impigrito forse non è esatta si era abituata ad avere un determinato comportamento che però ha capito che non era favorevole né a te né a lui e quindi vuole venire con un senso di costruttività adesso con qualcosa che gli si è acceso dentro verso di te perché alla fine ti vede comunque come la donna da amare la persona da amare e quindi secondo me proprio così chiaro non te lo dirà ma tu sentirai a livello energetico perché poi abbiamo qui il completamento dell'amore quindi qui abbiamo una persona che ha preso coscienza che proprio l'amore per te ce l'ha e come quindi vuole assolutamente proseguire senza appunto l'impigrimento senza le modalità diciamo che avevate prima adesso vuole cambiare modalità questa persona vuole ammirarti vuole vuole come dire darti il valore che secondo questa persona tu meriti veramente mettiamoci un po di tarocchi anche questi sono tarocchi ma comunque voglio metterci un po di tarocchi voglio mettere delle carte su questo peso che porta dentro secondo me il peso adesso è cosciente si sentiva pesante questa persona ma si sentiva pesante perché secondo me non non capiva che il peso era la tua assenza la tua mancanza si guarda che bel carro quindi vuole proprio proprio qui e la volevo mettere quindi viaggio e carro si questa persona viene assolutamente ti cerca assolutamente perché ha questo peso questo dolore come se avesse capito che tu alla fine ecco questa è una carta a me piace moltissimo il nove di pentacoli perché rappresenta la centratura come se tu fossi la la sua centratura il suo radicamento ecco però è come se li avesse capite da quando ha avuto questa illuminazione che però è partita tutto da una gelosia da una paura di perderti quindi è come se volesse dirti non che te lo dirà volesse dirti il mio radicamento sei tu l'amore c'è sempre stato però è fra di voi assolutamente quindi anche molta attrazione fisica questa persona proprio secondo me ti cerca diciamo anche con una certa volontà diciamo ma forse ti dice semplicemente vediamoci poi tu capirai l'energia secondo me questa è una persona che vuole fare un po' finta di niente perché vuole semplicemente stare con te poi tu capirai strada facendo il processo che ha avuto dentro questa persona capirai dalle cose che ti dirà che vuole fare un programma che vuole costruire tu lo capirai capirai che che proprio tu sei la sua radice ecco e che comunque anche se magari non se n'era reso conto prima l'ha capito adesso che tu sei questa radice con questo bellissimo asso di coppe così come è rappresentato qui abbiamo anche degli aspetti spirituali molto profondi come dire qui c'è un incontro che va oltre oltre al nostro piacerci al nostro darti valore alla paura di perderti c'è qualcosa che va oltre che ci lega qualcosa che ci lega oltre ciò che noi possiamo vedere immaginare qui abbiamo di nuovo la carta proprio degli amanti dell'amore quindi possiamo dire proprio che qui le carte si aprono come potete vedere tutto su un amore mi viene da dire profondo ecco profondo perché comunque questo radicamento secondo me non è tanto in quello che si dice o si fa chi domina chi non domina secondo me questo radicamento è anche un po' inspiegabile alle volte non tutto si può spiegare corrazionale secondo me questo radicamento fa parte proprio di un'essenza di un filo che vi lega adesso non sto parlando necessariamente del filo rosso ma di un magnetismo un filo energetico qualcosa che vi rende questo amore questo amore ecco con queste tre carte ma partiamo anche dalla semplicità che è venuto dal candore che ha questa persona no cioè secondo me vuole venire e esprimerti semplicemente chi è adesso rispetto a prima forse non ti vuole dire appunto prima non ti davo valore adesso te lo do perché non è andata proprio così no è stato tutto un insieme di prese di coscienza di consapevolezza che questa persona ha avuto ma senz'altro qui abbiamo proprio diciamo qualcosa che si espande qualcosa che si è espanso forse prima questa persona era un po' contratta mi viene da dire a livello energetico no quindi qualcosa questo angelo è arrivato per farlo espandere tutto è partito magari da una chiacchiera da un pettegolezzo da una forma di gelosia però poi si è sparso si è espanso quindi vedi che poi alla fine vuole costruire perché quando c'è anche tanta spiritualità poi la persona vuole costruire perché qui abbiamo proprio il re di pentacoli no perché più sei spirituale più in realtà perché uno dice la spiritualità è astratta no più sei spirituale più hai radicamento perché sei più nella realtà perché hai coscienza di che cos'è la realtà la realtà della vita quindi ti viene naturale proprio perché hai un legame spirituale costruire così come io vedo che sta facendo questa persona quindi carissimi e carissime io vi ringrazio dell'ascolto e a risentirci a presto come vedete faccio un po video brevi un po lunghi un po due stese un po una stesa lunga ma sempre ci sono grazie a tutti un abbraccio un abbraccio